Ed ora parliamo della visita che Lucca, rappresentata dal sindaco Alessandro Tambellini, si appresta a fare a Madrid. Tambellini volerà domattina nella capitale iberica per partecipare ai festeggiamenti del 2 giugno, in realtà appunto spostati al 4 di giugno, alla ambasciata italiana e quindi sarà ospite dell'ambasciatore Pietro Sebastiani che tra l'altro è nato a Lucca, quindi ha ancora forti legami con questa città. Il primo cittadino incontrerà all'ambasciata italiana il sindaco di Burgos e poi la sera sono previste una serie di celebrazioni istituzionali, ovviamente della festa della Repubblica, presso l'ambasciata alla presenza delle maggiori autorità cittadine. Dunque una festa alla quale parteciperà anche la fondazione Giacomo Puccini con il presidente che sarà però rappresentato dal discendente di Luigi Boccherini, José Antonio Boccherini Sanchez che è presidente onorario del centro studi e dal presidente dell'associazione Luigi Boccherini di Madrid. Tambellini rientrerà in Italia il 6 di giugno.